Ma quello lo spero, diventa più facile, però è un contratto che ho fatto due anni fa, quindi i contratti si rivedono sempre, speriamo di rivedere anche questo. Poi i stimoli io li ho dal primo giorno, al di là del contratto, l'ho dimostrato quando era in scadenza, un napoletano che gioca a Napoli è pieno di stimoli, quindi va al di là del contratto sicuramente.